Il blitz dell'unione sindacale di base negli uffici della ASL di Chieti è riuscito a metà, infatti, ieri mattina. Il manager Pasquale Flacco non c'era, ma i sindacalisti sono riusciti comunque ad incontrare il direttore sanitario Vincenzo Orsatti. I lavoratori precari si sono ritrovati sotto la sede dell'azienda a Chieti. Da mesi, infatti, chiedevano un incontro alla direzione della ASL per affrontare il problema dei circa 200 precari delle cooperative in servizio negli ospedali, con contratti che vengono definiti non dignitosi e con orari di lavoro che cambiano di continuo. Ma la direzione non ha mai risposto, così i precari hanno deciso di andare direttamente a Chieti. Abbiamo segnalato anche il problema della esternalizzazione dei servizi sanitari, dice Luigi Lasci dell'USB, che non hanno fatto altro che produrre un peggioramento della qualità della vita degli impiegati facendogli evitare i costi per le casse dell'ASL. Abbiamo ottenuto, continua il sindacalista, di poter parlare con flacco di questi problemi, nonché della stabilizzazione dei precari, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai lavoratori delle aziende esterne e della necessità di controlli sulle ditte che gestiscono i servizi negli ospedali. L'obiettivo dell'USB è riportare sotto il controllo della sanità pubblica i servizi e i lavoratori delle ditte esterne, affinché i lavoratori possano avere contratti dignitosi.